Al secondo posto, con punti speciali 27, la Società Ginnastica Eteria. Passione, determinazione e sudore che pagano a un passo dal gradino più alto del podio, ma con un argento che riempie di gioia. La terza tappa del campionato di serie B1 FIGI, Federazione Ginnastica d'Italia, che si è svolto a Pisa, ha visto infatti la Società Eteria di Lanciano posizionata al secondo posto su ben 21 squadre partecipanti, tra le migliori d'Italia. Adriana Taddeo, tecnico federale e giudice nazionale, ha schierato giovani ginnaste dai punteggi eccellenti. Sofia Olivastri al corpo libero, Federica Lemma alla fune, Michela Cicotelli al cerchio alla palla, Benedetta Dell'Elba alle clavette, Alice Caldora al nastro. Il prestigioso campionato di B1 di ginnastica ritmica federale ha avuto inizio il primo ottobre a San Marino. La seconda tappa si è svolta ad Ancona, dove l'Eteria ha scalato la classifica dal nono al quarto posto, sfiorando così il podio. Poi quattro ore di allenamenti quotidiani per lavorare sulle performance di gara, sull'aspetto artistico, tecnico e mentale, hanno finalmente pagato. Questo risultato è stato sia per me che per le mie ragazze una soddisfazione grandissima. Sicuramente era tra i miei principali obiettivi sin dall'inizio del campionato, però poi vedere questo sogno realizzarsi è stata veramente un'emozione unica. Soprattutto mi ha reso fiera vedere le ragazze pronte, in pedana, determinate e hanno comunque conquistato punteggi ottimi, tra i migliori della competizione. E questo risultato è stato soprattutto per noi un motivo in più, uno stimolo in più per raggiungere traguardi sempre più importanti anche per il 2018. Dalla sesta posizione alla seconda? Beh, ne manca una. Sì, siamo partiti con la nona posizione alla prima tappa, dopodiché quarto posto alla seconda tappa, seconda alla terza tappa e speriamo l'anno prossimo di ottenere la promozione. Ci proviamo.